immaginate una scuola bene ora togliete tutto e lasciate solo la ricreazione ricreazione è uno spazio è il vostro spazio per sgranchirvi il cuore ed il cervello giocare con le parole le immagini e recuperare il piacere il senso di condividere le storie io sono marina gellona e vi aspetto a ricreazione il nuovo corso in live della scuola orde